In un desolato futuro, dove il caos regna sovrano, si erge una fortezza ai confini delle tenebre. I nemici sono alle porte, ma il vero terrore è dentro le mura. Un uomo, nato in un mondo a metà, tra paradiso e inferno, è la loro unica salvezza in una battaglia contro il male supremo. Nessun uomo sano di mente affronterebbe quell'essere. Non sono come gli altri uomini. Questo dovrai dimostrarlo. Il male è qui. È pericoloso. Assolutamente. Ma tu stavi per morire. Non è la prima volta. Lei è mia figlia, Kira. Ci siamo già presentati. Ne avverti la presenza. Tu lo senti. Non sai niente di quest'uomo. Mantalo via! Non sfidare la sorte. No! 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 Beowulf. Ti stavo aspettando. Sono come te. Sono uno dei dannati. No! 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 Grazie a tutti.